Abbiamo parlato di sondaggi, cioè, cosa ho fatto? Vi ho chiesto delle cose, come tutte le settimane. E allora, queste non sono le domande di questa settimana, ma di qualche settimana fa, perché devo recuperare, perché la trasmissione è iniziata dopo. Allora, hai mai lavorato interi lavori di smart working? Volevo darvi un feedback, praticamente più della metà no, di chi? Di quelli che seguono me, quindi non valgono nulla, non prendete questi sondaggi come un preso sociale, però attenzione che c'è chi fa sondaggi che ha un campione ancora più piccolo di questo, per cui, comunque, qui ci siamo a 300.000 su Facebook e altri, insomma, 400.000 persone circa che hanno avuto la possibilità di rispondere. Interessanti commenti di Andrea Riolborsca di Orgalinaro, che dice, smart working, da poco più di due anni, un'altra vita in meglio, naturalmente. C'è chi dice, tipo, l'organa Riva, in smart working per alcuni periodi, onestamente, pensavo che mi sarebbe piaciuto di più, però mi manca la relazione con i colleghi e con i clienti. E Sabrina Domini ci dice, sì, un mese e mezzo, durante il primo lockdown, ma devo dire che non mi sono trovata affatto bene a casa, sono lentissima rispetto all'ufficio. Poi ho chiesto se qualcuno avesse mai pensato di comprare un'auto elettrica. La maggior parte sì, il problema è che, vediamo dopo, che dice sì, però A, costano molto, 2, ricaricare in Italia è un guaio, perché, specie centro-sud-isole, sono bloccate da ambulanti, parcheggio selvaggio, insomma non le usano in molti, e 3, ho sempre il dubbio che farei il bene dell'ambiente, ma attenzione, perché le batterie quando si sostituiscono, e su questo infatti vorrei parlarne presto in un servizio, prima di quello che pensiate arriverà, e qua si dice che nessuno pensa che tra qualche anno ci sarà appunto il problema dello smaltimento delle batterie elettriche. Poi ho chiesto se si usano, se usate le piattaforme video, on demand, pagamento, Netflix o altri, sì, il 30%, 40% sì più di una, 31% non, la maggior parte di voi in generale le utilizza. Laura Gritti dice, li ho tutti, passo tempo a leggere le trame, piuttosto che guardarli.